La palazzina degli orrori, quella in cui ha trovato la morte la piccola fortuna Loffredo e quella in cui due genitori commettevano atti di violenza nei confronti di una bambina di soli tre anni a scoprire la triste e tragica storia. I carabinieri che all'alba di oggi hanno arrestato due persone indagate per i reati di violenza sessuale aggravata nei confronti della loro figlia. Le indagini, pur derivando dalla vicenda che ha suscitato grave allarme tra la popolazione, la vicenda appunto della piccola fortuna Loffredo avvenuta nel Parco Verde il giugno scorso, ha fatto emergere però un ulteriore e autonomo fatto rispetto alla vicenda della piccola di sei anni. In particolare nel corso delle indagini è risultato che l'uomo avrebbe costretto la bimba a subire atti sessuali contro la sua volontà in presenza della madre, la quale, sebbene avvisata in più occasioni dalla figlia del comportamento assunto dal convivente ai suoi danni, non li impediva omettendo di denunciarli né si attivava quantomeno per evitare il protrarsi delle violenze. Nell'ambito delle indagini furono già adottati dei provvedimenti cautelari personali ed arrestati due coniugi che abitavano nella stessa palazzina della piccola fortuna Loffredo, anche loro accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti della loro figlia di 12 anni.